Fermo, fermo. Scommetto che anche tu hai l'amico che riesce a rimorchiare naturalmente le ragazze e tu non ti spieghi come il diamine fa. Sai cosa sa lui? Sa delle cose che tu non sai. O meglio, lui non le ha mai imparate ma gli vengono naturali. Se anche a te, come a me, non vengono naturali, a me non venivano ma ho dovuto impararle, te le posso insegnare. Ho creato un percorso che si chiama Rinascere Masterclass. Un'ora a settimana per tre mesi, quindi dodici settimane, dodici lezioni, nelle quali ti spiego la soluzione dalla A alla Z. Ad un prezzo ridicolo, entra, ti accapare il tuo posto e impari finalmente come conquistare le ragazze. E vedrai che riuscirai anche a fare meglio di quello che non mi hai dovuto studiare, quello che ha quel talento. Perché la disciplina, le informazioni e il continuo provare e studiare da uno che l'ha già imparato, batte sicuramente il talento di chi ci nasce. Quindi clicca nel link qua sopra nella descrizione di questo profilo, accapparati il posto, costa veramente niente e ci vediamo dall'altra parte.